Grazie a tutti. Il piano sia in parte marginale, isolato, mal collegato, ma questo non vuol dire che non faccia parte di tutto il Paese. E quindi proprio la nostra manifestazione che in qualche modo è giunta alla non edizione, forse avrete sentito parlare della giornata delle ferrovie non dimenticate, la prima domenica di marzo, che è giunto in questa non edizione addirittura al mese della mobilità dolce. E quindi non più una giornata, ma addirittura tutto un mese dedicato alle diverse opportunità di viaggio che consentono alle persone di non essere semplicemente merce trasportata, ma di essere attori e protagonisti della scelta del viaggio. Per comprendere quello che si attraversa e quello che si vede e soprattutto per entrare in rapporto, in relazione ai paesaggi, ma anche alle comunità che li vivono. E in questo caso poter osservare luoghi come questi, persone come noi che provengono dal nord o dal sud d'Italia. In questa committiva di sei persone abbiamo un amico catanese insieme all'amico bergamasco, anadonati da Roma, così come Massimo Ferrari da Milano, il sottoscritto che proviene addirittura da una zona particolarmente turistica, da Rimini. Bene, vi posso assicurare che l'attraversamento di questi luoghi che sembrano di per sé isolati in realtà costituisce un'esperienza di viaggio. E il nostro arrivo a Pietrarsa, agli stati generali del turismo sostenibile che il ministro Franceschini ha voluto per i giorni 7, 8 e 9 aprile, proprio nel museo ferroviare di Pietrarsa, nella fabbrica, nell'opificio borbonico, ecco la dice lunga su come in qualche modo il treno, questa strada di ferro sia fondamentale per comprendere il paesaggio italiano. E quindi immaginare attorno a questo il riscatto anche di un'economia dedicata a una modalità sostenibile di vita. Ma questo è importante soprattutto se le persone sono consapevoli di far parte di una comunità. Quindi evitiamo isolamenti, evitiamo frammentazione. E la mappa che stiamo producendo in questo momento, proprio per restituire la grande varietà, la grande modalità con il quale si può intraprendere un viaggio in Italia, una nuova versione di quel Grand Tour che al tempo giusto consente in qualche modo di attraversare il paese con quel tempo e modo che consente in qualche modo di entrare in contatto con quello che attraversiamo. Grazie. Grazie.